Gli affitti brevi continuano ad aumentare a Torino. Sono oltre 5.400, 200 in più rispetto a due mesi fa, ma con la novità della trattenuta automatica dell'accedolare secca da parte delle piattaforme, il numero potrebbe diminuire con l'uscita dal mercato di chi non rispetta le regole. Ci si aspetta sicuramente un azzeramento o comunque una limitazione di quella che finora è stata la concorrenza sleale di proprietari che mettevano online il loro immobile senza fare tutta una serie di comunicazioni obbligatorie per legge e anche versare le conseguenti imposte. Da quest'anno Airbnb trattiene l'imposta direttamente dai compensi per le attività non professionali, ponendo fine a un lungo contenzioso con il fisco italiano che aveva portato a una maximulta. Trattenuta ora effettuata anche da Booking, l'altra grande piattaforma, ma un'altra novità del 2024 è l'aumento proprio dell'accedolare secca dal 21 al 26% a partire dalla seconda casa. Una norma prevista dalla legge di bilancio che le associazioni di categoria contestano. Non può risolvere l'emergenza abitativa nelle grandi città, dicono, se un proprietario sceglie l'affitto breve e il ragionamento non è solo per le tasse, ma perché ha maggiori garanzie in caso di morosità. Adesso purtroppo il proprietario privato non è garantito e quindi tende a scegliere l'affitto breve dove può, perché invece c'è una garanzia di pagamento diversa.